Zia Carina, a che età aveva vostro marito quando è andata per il fronte? 19 anni. Vedete bambini, questo era quando stava in guerra? Sì, quando è partito. E invece questa? Quando è partito. Vedete che bel giovane. Che era presente in casa al momento della partenza? E con quale mezzo di trasporto partì? Tra tutti per correre. In quali luoghi e contro chi ha combattuto? Chi ha combattuto non lo so, dico la verità. In Africa. Come passavate la giornata durante il periodo di guerra? Con i miei bambini. Guarda lei. Cosa mangiavate a colazione? A colazione mangiamo sempre le cose che rimanino la sera. Gli avanzi. Gli avanzi, eh. Gli avanzi. Questi sono tutti i documenti di mio marito della guerra. Qui parla? Come passavate? Possiamo appare un vino di guerra. A presto! Minuto on Hitla Grazie.